Musica E ci siamo ora, entriamo nel vivo, per il piano italiano, il saluto ai signori di Giulia, Federico Mancini, possiamo entrare subito le tre piramide da Giorgio, monta dalla loro specialità gianciana, con il primo minore, l'Idex Salvatori, e le manchete i dolli. Musica Forza Vai Lascia Vai, gambe, gambe Vai Così va bene Via, via, gambe 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 �무�no Molto Gambe Gam Chiudi, vai! Chiudi! Chiudi, vai! Chiudi, gira! Chiudi, vai! Chiudi, vai! Chiudi, vai! Chiudi, vai!